Sul campo centrale dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli si sono svolte stamane le premiazioni del trentesimo torneo delle Accademie Militari. A ricevere coppe e medaglie gli atleti che si sono maggiormente distinti dell'Accademia Militare, Navale, Aeronautica e della Guardia di Finanza. Un avvenimento sportivo importante anche perché dal bacino degli atleti militari ogni anno ma soprattutto alle Olimpiadi la nazionale italiana riesce ad attingere gran parte delle sue risorse migliori. Ai nostri microfoni il generale di squadra aerea Silvano Frigerio. Io penso che lo sport e le forze armate grazie al contributo fondamentale che hanno dato per la resilienza e il recupero delle funzioni normali del paese siano stati due ingredienti fondamentali per fare d'accollante proprio per il paese, per mantenere coesi i valori nazionali e l'amor di patria. A premiare gli atleti anche il presidente del CONI Giovanni Malagò a margine dell'evento sportivo. Il numero uno dello sport italiano si è soffermato sul prossimo impegno della nazionale di calcio che può valere l'accesso agli spareggi per il prossimo mondiale. Malagò è preoccupato anche visto lo stato di forma e di gestione deficitario e fallimentare del movimento del pallone nazionale fuori per l'ennesimo anno dalla Champions che conta. Dal 2010 non vinciamo una Coppa, dal 99 addirittura l'Eurolega, l'Europa Liga. I numeri rispetto anche ai nostri tra virgolette competitor sono impietosi. Se anche magari destini qualcosa di più ai settori giovanili probabilmente visto che i parametri sono sicuramente non favorevoli rispetto ai nostri competitor europei probabilmente sono anche dei discorsi che non ottieni nel breve ma nel medio forse nel lungo termine ma ti danno dei risultati diversi. La nazionale in realtà hanno fatto un miracolo ed è per questo che oggettivamente siamo tutti ottimisti molto ma col fiato sospeso per questi spareggi. Ciao. Grazie a tutti